Floris, vorrei cominciare questa puntata con un ricordo di Guglielmo Epifani che è mancato oggi all'età di 71 anni dopo una breve malattia. Sono intervenuti tutti dal Presidente della Repubblica Mattarella, al Presidente del Consiglio Draghi che ha ricordato che è un esempio di impegno al servizio dei più deboli. Tu lo conoscevi molto bene. Che cosa è stato e chi è stato per la sinistra italiana Epifani? Terribile perderlo così presto, no? Innanzitutto una persona molto colta, gentile, amabile, spiritoso, molto arguto. Una persona che si è iscritta in una tradizione del socialismo riformista nobilissima, importantissima, ma soprattutto è stato il primo socialista a guidare la sinistra nel sindacato, nella CGL. E' stato il primo socialista a guidare il PD. E' stato sempre socialista, è stato sempre a sinistra, è stato lungimirante, moderno, nella battaglia della Scala Mobile, era dalla parte giusta, diciamo. Però era anche a difendere l'articolo 18. Era a fare l'ascissione e a guidare il PD. Era un uomo che sapeva dove le cose stavano andando e ne era motore. Era un protagonista di una sinistra che aveva ragione, ma ha saputo farlo valere nei posti dove in genere quella sinistra perdeva. Sì, è stata una persona abbastanza straordinaria Guglielmo Epifani. Senti.